L'incontro è buono, gli abbiamo portato il materiale, gli abbiamo ribadito, abbiamo conosciuto per la prima volta una delle componenti della commissione che ha istituito il prefetto per valutare se c'è la possibilità o meno di sciogliere il comune per mafia, noi siamo collaborativi, ci sono due anni di lavoro in quei faldoni, speriamo che portino i frutti e che riusciamo a liberare questa città. Grazie